Il concetto di alleanza è stato accolto in Mirai circa tre anni fa e l'ho preso in prestito dal libro di Reid Hoffman dal titolo L'alleanza, gestire il talento nell'era del networking. Ti consiglio assolutamente di leggerlo per approfondire quelli che sono i temi principali che ora ti elenco e che ti invito a mettere in pratica in azienda. Crea un posto di lavoro che sia piacevole e funzionale. Implementa poi una cultura di feedback sviluppata e falla rispettare nei rapporti personali di tutti i giorni. Un altro consiglio che voglio darti è utilizza il performance management per dare alle persone degli obiettivi chiari, personali e raggiungibili. Questo lo vedrai più avanti. Per noi il performance management o performance review è un documento in cui ci diamo degli obiettivi personali e professionali e monitoriamo il loro raggiungimento. I cinque driver che analizziamo sono quelli che rendono Mirai una società, un'azienda e un partner per i nostri clienti straordinariamente importante. Questi driver permettono ad ogni singolo collaboratore di essere una figura unica, visto che stiamo davvero creando delle figure professionali nuove che sono merce rarissima e introvabile sul mercato del lavoro. Ti consiglio poi di studiare come offrire dei bonus meritocratici ai tuoi collaboratori. Qui devi decidere in base alla tua organizzazione in realtà. Noi siamo divisi a team e ogni team prende un compenso variabile in base al fatturato che genera ogni mese grazie ai propri clienti ed è un esempio che puoi attuare se lo ritieni dato a te. Organizza poi esperienze da fare insieme al tuo team, anche extra lavorative. Infine ti consiglio di mantenere i rapporti con chi ha lavorato in passato nella tua realtà perché è sempre molto utile, si possono conoscere nuovi clienti, le persone possono tornare da te o ci si può dare valore a vicenda grazie a nuove esperienze, a nuove competenze apprese, ad esempio organizzando dei laboratori o degli eventi in cui ci si ritrova. La domanda quindi è La tua realtà è il miglior posto al mondo in cui lavorare? È naturalmente una provocazione, ma l'ambiente è assolutamente importante. Nel nostro caso, ad esempio, l'acquisto del nostro ufficio loft è stato un importante investimento, ma ci ha permesso di far lavorare le persone in un ambiente assolutamente piacevole. E infatti è un po' come sentirsi a casa. E naturalmente noi abbracciamo lo smart working, lasciando la possibilità di scegliere se e quando venire in ufficio. C'è un ultimo punto che vorrei affrontare in questo video dedicato all'alleanza e riguarda la condivisione. In realtà in Mirai Bay parliamo di partnership, in quanto, se ricordi, uno dei pilastri portanti e fondamentali della nostra realtà sono le società partecipate, come ti raccontavo all'inizio. Il fatto di creare nuovi progetti insieme ai nostri collaboratori all'interno di Mirai è un ottimo modo per coinvolgere i tuoi collaboratori, renderli imprenditori della loro creatura e permettere loro naturalmente di allargare la zona di comfort con nuove competenze, su nuove competenze che puoi trasmettergli. È anche un modo per premiare le tue persone, dimostrare loro fiducia e ammirazione, tanto da diventare soci in qualcosa che dovrà essere curato e coltivato in primis da loro stessi.